Neck, artista polietrico e versatile, sei reduce da una trasmissione televisiva che ti ha visto insieme alle artisti di strada, protagonista su Rai 2, un programma che è un'idea di Carlo Conti dalla strada al palco. Io da ammiratrice devo dire che ho apprezzato dei tuoi doti di conduttore, hai catturato il pubblico, questo fai. Oggi sei qui a Peschici, in quella che viene definita la perla del Gargano, in un'altra veste, quella di scrittore, in A mani nude. Filippo, cosa racconta? A cuore aperto, quindi si legge A mani nude ma si dice a cuore aperto. Sono un insieme di riflessioni, ammissioni, riflessioni, punti di vista e inoltre il racconto cronologico di quello che mi è successo, vale a dire un brutto incidente alla mano sinistra. Sappiamo che le mani sono importanti per tutti, ma per un musicista lo sono in modo più consistente. E quindi c'è insomma la consapevolezza del cercare di trovare delle risorse sempre in ogni momento della vita e ad ogni prova che la vita ti porta a vivere. Quindi mi sono permesso di mettere insieme queste sensazioni e sono stato felice di condividerle ancora oggi, a sei mesi dall'uscita del libro e poi a parlarne con un amico grande giornalista. A mani nude io lo guardo insieme a NEC e ve lo mostro. Mostra proprio la mano ferita. Prendo spunto dal titolo. Ti sei messo a nudo, hai raccontato le fragilità ma anche la forza che in questa situazione tu hai tratto sicuramente da te ma anche da chi ti è stato vicino, la famiglia e gli amici. Sì, sì, sicuramente. Ma credo di aver fatto quello che la maggior parte delle persone si trovano a compiere in determinate circostanze. Sai, nei confronti di un incidente non sai mai come gestire la paura e quello stato particolare di cose che ti colpiscono. Quindi non sai mai gestire determinati momenti così delicati della tua esistenza. Ci si prova e lo si fa naturalmente da soli ma anche con l'aiuto delle persone care, gli amici, il pubblico, l'affetto delle persone comuni, anche quelle persone che si incontrano per una volta nelle corsie di ospedale con le quali ti senti di condividere cose che non avresti mai pensato di fare nella tua vita. E la fede, perché anche la fede ha avuto un ruolo importante. Certo, certo, assolutamente. Tra gli amici, ecco lo citiamo, un amico collega che ha vissuto anche questa esperienza del dramma di un incidente di cui è stato appunto vittima, Gianni Morandi che ha curato la prefazione. Quanto è stato importante il suo supporto? Beh, guarda, è importante come aver condiviso con le persone care e, ripeto, con le persone che per la prima volta incontravo in quella circostanza. Quindi l'importante è stato condividere, quindi alleggerire il peso. C'era un carico sulle spalle che veniva, in un certo qual modo, distribuito con le altre persone e di conseguenza diventava più leggero. Ecco, poi vabbè con Gianni c'è un feeling da tanti anni, facciamo lo stesso mestiere, io lo guardo con aria di ammirazione perché è un grande, è una persona, come posso dire, è un presentatore ma non lo è solo, è un cantante prima di tutto. Ecco, lui è poliedrico, lui ha diverse facce di se stesso, regala le persone e per me aver chiesto la prefazione ed essere stato esaudito in questo è stato un regalo gigante proprio. Siamo nel cuore del Gargano, Peschi ce la conosceva, l'ha conosciuta e le è piaciuta? L'hai conosciuta, bravo. Beh, sto conoscendo la Puglia, devo dire una sorpresa, ma semplicemente perché io l'ho sempre vissuta in maniera distaccata. Concerto, rimango 24 ore e poi riparto. Concerto, assaporo l'affetto della gente, come sicuramente questa sera sarà, e poi riparto. E quindi quest'anno sono riuscito a regalarmi cinque giorni in Puglia. Insomma, bello, meraviglioso. Non finisce mai di stupirmi l'Italia. Io credo che proprio viviamo in un paese, ad ogni angolo regala veramente bellezza. Poco da fare. Allora, mani nude, adesso presentiamo il libro. Grazie a tutti.